Cari cittadini, oggi in conference call insieme ai 12 sindaci delle città capoluogo della regione Lombardia abbiamo fatto il punto con la giunta regionale e abbiamo deciso tutti insieme di chiedere al governo sin da domani una forte restrizione delle occasioni di socialità. Ci rendiamo conto della difficoltà del momento e di quanto questo vorrà dire per tante attività ma dobbiamo fermare il contagio dobbiamo limitare il contagio il numero di coloro che sono ricoverati che sono in terapia intensiva in costante aumento abbiamo quindi bisogno che ci sia una svolta per poter limitare il rischio di un collasso del nostro sistema sanitario abbiamo bisogno dell'aiuto del senso di responsabilità di ciascuno degli anziani a cui che invitiamo a rimanere a casa e il comune a disposizione per ogni vostra esigenza lo diciamo ai ragazzi quelli che non vanno a scuola e università evitino gli assembramenti si inventino la giornata e abbiano altre occasioni per voi l'incontro virtuale è assolutamente fisiologico chiediamo anche a tutti i cittadini di comprendere che il momento è davvero eccezionale e che abbiamo bisogno davvero di uno scatto di uno scatto di solidarietà di unità di orgoglio e noi ci siamo le istituzioni sono in campo sono in prima fila un grazie di cuore agli operatori sanitari a coloro che stanno negli ospedali a coloro che stanno vivendo questi momenti difficili con la loro professionalità con la loro alta umanità siamo in buone mani abbiamo bisogno davvero di superare questo momento richiamando le migliori nostre idealità e quella consapevolezza quel senso del volto vera e quel senso delle istituzioni e della collettività che ci appartiene ve lo chiediamo a nome di tutti i sindaci della giunta regionale abbiamo bisogno davvero di dare un colpo un colpo forte contro questa espansione questa diffusione ce la faremo